Ringraziamo Media Nord Est per l'intervento che è stato fatto in queste 11 ore di diretta e 11 ore di presenza anche perché molti alpini ci hanno detto che sono stati davanti alla tv ad avere la sfilata dalla mattina alla sera e hanno chiaramente goduto dal teleschermo di queste immagini di noi alpini a Rimini. Gli alpini ringraziano Media Nord Est dopo il record di ascolti della lunga diretta No Stop che ha raccontato la donata nazionale delle penne nere a Rimini. Le emittenti del gruppo Media Nord Est sono state seguite da un milione di telespettatori anzi secondo gli alpini addirittura di più perché davanti a ogni televisore si sono radunate intere famiglie, tantissime persone. Se facciamo bene i conti considerando che in molte case si sono raccolti appunto davanti alla tv come fosse una finale di un mondiale di calcio sicuramente i telespettatori saranno stati molto di più. Sette telespettatori su dieci delle tv locali hanno scelto il nostro network nelle dieci ore di diretta con un primato per Rete Veneta che è stata l'emittente televisiva locale più vista in assoluto durante lo sfilamento degli alpini del Veneto. La sezione Montepasubio ha sfilato con la bandiera della città di Vicenza. Sì abbiamo avuto il privilegio e l'onore di aprire la sfilata della novantatresima adunata nazionale con la bandiera della città di Vicenza, unica bandiera in Italia medagliata di due medaglie d'oro al valor militare. L'appuntamento è ad Asiago dove dall'8 al 10 luglio si terrà la prossima adunata triveneta con noi di Rete Veneta in prima fila e ovviamente con tutti voi i nostri telespettatori. Ringraziamo i telespettatori di Mendea Nord Est per quanto hanno fatto e per esserci stati vicini e averci sostenuto da lontano a Rimini.